A Sansa si lavora per una nuova ed entusiasmante edizione del Meeting del Cervati, una manifestazione dedicata alla vetta più alta della campagna da vivere e apprezzare nei periodi estivi. Ideato diversi anni fa, il Meeting del Cervati aveva poi subito uno stop per poi essere nuovamente ripreso dall'amministrazione comunale guidata da Vittorio Esposito e impreziosito da eventi, manifestazioni e iniziative di carattere culturale e promozionale grazie all'impegno di un gruppo di giovani che hanno dimostrato così il grande amore e la grande passione per il loro paese. Giovani di Sansa e amministrazione anche quest'anno si sono messi insieme per questa nuova edizione del Meeting con l'evento Clou che si terrà il 25 agosto, quando alle ore 22 in piazza San Francesco arriverà Massimo Ranieri, accompagnato da importanti nomi della musica italiana per il viaggio nella canzone napoletana declinata in versione jazz con lo spettacolo Malia dall'omonimo album. Sarà un escursus tra la musica napoletana, la più bella e famosa, che coinvolgerà il pubblico presente per una notte indimenticabile. Da Malafemmina di Totò a Dove sta Zazzà, passando per Stradanfosa di Modugno e Torero di Carosone, Ranieri arriva al secondo capitolo del suo personale viaggio nella canzone napoletana declinata in versione jazz, iniziato nel 2015 con l'album Malia, Napoli 1950-1960. Non tralasciando però poi anche i successi di Rose Rosse e Perdere l'amore da vent'anni a Erba di Casa Mia. Ancora una volta quindi il Meeting del Cervati, fortemente voluto dall'amministrazione comunale di Sanza per la valorizzazione della natura e del paesaggio unico offerto dalla vetta più alta della campagna, sarà impreziosito dalla presenza di musica d'autore. Accanto al grande Massimo Ranieri ci saranno anche Stefano Di Battista e Sassofoni, Enrico Rava alla tromba e al flecorno, Rita Marco Tulli al pianoforte, Riccardo Fioravanti al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla batteria, con grande soddisfazione per l'amministrazione comunale.